Ciao a tutti ragazzi, sono TheKingGale99 e siamo qui oggi con un nuovo video dopo tanto tempo che non ne facevo uno allora oggi saremo in un gameplay di Fortnite fatto insieme agli altri quindi non mi dilungo troppo e vi lascio al video buona visita Vabbè, mo giochiamo seri scendiamo un attimo Torco Pacifico non c'evo voglia di andare così lontano Ah, finalmente uno che mi capisci Mario si sente apprezzato in questo momento un po' esperienze mai provate ora cazzo scusate, minchia, io sto giù giù è troppo piccola per quattro ragazzi si, cazzo, ma c'è anche la casa eh, è vero per dire, non è un po' troverso vabbè ci sono le casezze qua destra pure c'è, c'è, c'è un bozzo roba, cazzo vabbè, 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 vabbè madonna perché altro bevito scusa eh, perché ne tengo no la colpa alessandro giallo no bugia non lo faccio dove stanno vedi l'ho lasciato giù gira di trovo gira che ti rigira gira che ti riguarda eh, l'ha è blu ah, io c'ho il trucco oh no, voi state costruendo mi sei inculato mi sei inculato il mio pompa blu che ho avuto puntato benissimo grazie Alessa per il nuovo di legno ma nel contenitore stavano alessandro no, le ho lasciati giù per gira di tutta la cosa che ci avete ragazzi c'è due jump eh, ragazzi c'è un continuo tre vai, ci sono vabbè, ci sono pesa si, si ho capito si stanno pesando tra di loro al massimo ce li busciamo e c'è di io c'ho due jump se volete li busciamo uno no, ma che cazzo e non ci attiriamo dietro e poi facciamo tutti tutti e si stava vedendo praticamente almeno si stavano vedendo materiali servirebbero a me pure a me che cazzo è quello non mi dica uno scarto e se è un po' è un assalto viola praticamente sarà buggata con la pistolina però è un assalto viola e non era lo scar ragazzo no, qui sono qui vai, andiamo da Matteo arrivo buona vaffanculo sopra, sopra, sopra c'è un altro frate riesce a venire qua sono contento ma parola cazzo ce l'ho dietro pure minchia ma io due ma hanno busciato qua no mi uccide sa qua Flavio bravissimo ahia eh voglio sopporto questo vai lanci razza lì adesso scendi qua Matteo il primo che quando se ce la fai il primo qua a me devi venire sta giusta di fronte a me è sceso davanti a me ecco la sta qua sta qua davanti a me sta curando questo matteo vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua buona vieni qua veloce vieni qua io cerco di avvicinarmi in seggio scendi che io per caso sbaglio sopporto gioco io mi sto avvicinando in seggio no no la si tu vai da cosa vai da 15 ciò 15 band della jump raga ora la cuore la croce uso la jump io sono merito ma ha fatto il culo quel bastard faccio il medico subito raga la safe è lontanissimo ci dobbiamo sbrigare allora che lo dici tutto ma io devo trovare ragazzi no ma te mi stai facendo triggerare giù stai facendo triggerare giù questo mi ha triggerato meraviglioso quindi pronti di pronte buona ma se ti levavi davanti che hai giudato 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 venire a passare blind blind no preso ci sarà l'ultimo erano ma rimasto malissimo fuori invece ragazzi sei rimasto di merda ma tre kill voi io una zero vabbè a sto giro non ho giocato proprio spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando c'è altissimi like iscrivete al canale e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao